Buongiorno e buon lunedì a tutti quanti. Dio ci ha benedetto a tutti con un giorno di felicità. Tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Oggi sono a casa ringraziamo Dio, dato che la temperatura fa freddo ed è umido e ancora sono influenzato. E' meglio così. Sono disponibile, se avete bisogno, chiamatemi. A Dio sia la loda e la gloria in Cristo Gesù. Vorrei pregare per ringraziare il Signore per tutto quello che sta facendo nella nostra vita. Chiudete gli occhi e pregate insieme a me. Padre Santo, Dio d'amore, grazie per questa gioia che mi hai donato in questi giorni. Grazie ancora per questo riposo. Grazie ancora perché tu ti prendi cura di me e non mi lasci e non mi abbandoni. Grazie Padre. E stamattina, Padre, ti voglio chiedere di benedire tutti i miei fratelli, sorella, amici, simpatizzanti e tutti quanti che si stanno accostando a te attraverso Gesù. Anche con questi video, anche con queste predicazioni, anche con questi inviti che tu mi lasci fare. Grazie, Padre, grazie per questo e ti chiedo di benedire tutte le nazioni del mondo che possono avere un lavoro, tutti, che possono essere benedette da te, Padre. Ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetta in eterno. Amen. Gloria a Dio. Ci sentiremo più tardi in webcam diretta con scrittura automatica. Se volete venire in diretta, digitate Angelo Piccone e vedrete due profili in online. Cliccateci e sarete in diretta. Accettate le notifiche e non appena farò la diretta in scrittura automatica, verrete avvisati. Vi raccomando di dare l'amicizia soltanto quando vedrete la mia foto nei profili, perché Angelo Piccone ce ne sono migliaia. E non vi voglio perdere in tutto internet, perché il Signore ormai ci ha messo vicini uno con l'altro e tutto è plausibile e dovremo restare sempre insieme e andare per la partenza insieme in Cristo Gesù, nella Gerusalemme Celeste. Pace del Signore a tutti quanti. Amen.